È iniziata ieri Europa in Prato e continuerà fino al primo maggio la mostra al mercato internazionale di prodotti tipici dei vari paesi europei. Grazie Franco Pasqualetti e adesso l'ultimo saluto ve lo rivolge Giovanni Bassanna che è direttore della filiale della Casa di Spargo di Padova e Profe della Valle in rappresentanza di questo importante sponsor che ogni anno consente che questa manifestazione possa avere successo. Grazie. Buongiorno a tutti. I premi che vengono assegnati sono in base alla fantasia e originalità Miglior Bancarella d'Italia, Miglior Bancarella Resto del Mondo e un premio speciale messo a disposizione della Casa di Risparmio del Veneto. Questo ha testimonianza del successo che sta avendo questa nostra manifestazione locale. Bene, io direi appunto di procedere e ringrazio tutti per la partecipazione. Momento di rito, tagliamo il nastro per dare formalmente il via a questa manifestazione. Dopodiché si alterneranno qui sul palco quattro rappresentanti dei più che cento, sono 167 le bancarelle presenti qui oggi. Quattro di questi in rappresentanza di tutti in maniera molto simpatica, molto amichevole, sono stati scelti per rappresentare le varie anime di questo commercio. E riceveranno un piccolo riconoscimento da parte di tutta l'organizzazione. Ecco il via, il taglio del nastro, dichiariamo il mercato europeo. Dichiariamo il mercato europeo ufficialmente aperto con questo taglio. Un applauso!